cuori azzurri ben arrivati a quella che sarà l'ultima puntata della stagione regolare perché l'ultima partita è veramente alle porte domenica il momento del match davvero decisivo a questo punto della stagione non si può definirlo in nessun'altra maniera dove l'ospite qui al piola con fischio d'inizio alle 16.30 sarà il fiorenzuola classifiche alla mano è veramente lo scontro salvezza il cui esito finale dirà quali saranno le sorti della novara poi in addirittura play out perché dipende anche dai risultati degli altri insomma bisognerà seguire la partita con come si diceva una volta l'orecchio alla radiolina per capire che cosa farà come risultato la procesto e che cosa farà contemporaneamente la pergolettese quindi sono le due squadre da seguire per capire che cosa sarà capire invece che cos'è la situazione ad oggi o un po di ritagli di giornale messi davanti è stata la partita a cui ha fatto seguito la più incredibile composizione di classifiche non del campionato di serie C girone A ma di un campionato che si potrebbe dire dei se e dei ma che fa rima perché se avessimo vinto se avessimo giocato se avessimo non lasciato indietro questo punto quello quell'altro e si sono fatti ipotesi di punti persi negli ultimi minuti tra i 13 dei più eh ottimisti ai 19 dei più pessimisti comunque diciamo un range di punti lasciati sul terreno di gioco che fanno un bottino importanti che hanno portato tutti alla stessa conclusione nelle famose classifiche dei se e dei ma del li avessimo quei punti saremo qui a parlare di playoff e tra l'altro in alta posizione credo parleremo di tante cose meno che di quello che è usato per il cappello introduttivo perché come nostri ospiti di oggi abbiamo edoardo lancini buonasera a tutti ciao edo e il capitano roberto ranieri ciao a tutti ciao Roby vero che vale la pena parlare di tante cose fuorché di quelle che sono le probabilità e gli imprevisti l'antico gioco del monopoli ci hai giocato qualche volta da bambino ci viene giocato un po tutti anche tu immagino passando le serate delle notti nebbiose davanti al campo del monopoli imprevisti e probabilità le lasciamo da parte partiamo piuttosto da una consapevolezza di una squadra che è cresciuta molto alla quale è mancata forse da una parte una quota di fortuna forse dall'altra la concretezza di arrivare sempre a giri alti fino all'ultimissimo minuto di gara Roby tu cosa pensi di questo momento che ci porta ad affrontare l'ultima partita come l'abbiamo descritto prima no penso che non bisogna stare troppo pensare a quello che è stato nei partiti precedenti anche se vuoi non vuoi la testa comunque ti riporta a punti persi a partite pareggiate gol presi agli ultimi minuti ma sembra scontato dirlo ma abbiamo uno scontro diretto domenica qua in casa da fare col Fiorenzuola purtroppo sicuramente avremo anche l'orecchio come hai detto prima te su altri campi perché dipende anche da quello dalla salvezza diretta e niente per quanto riguarda i punti persi sicuramente c'è un po di tutto c'è un po di sfortuna in alcune partite c'è stata poca concretezza in altre partite c'è stato poche esperienze in altre quindi è stato un mix di cose però mettiamola da parte anche se molto difficile però pensiamo alla partita di domenica edo tu che sei già stato a Novara il tuo è un ritorno lo sottolineiamo anche in questa occasione e hai anche una grande esperienza di frequentazione dei campi della Serie C quante altre volte ti è toccato nella vita ti è capitato di affrontare un finale di stagione in queste condizioni sinceramente fortunatamente poche più in Serie B però penso che che noi dovremmo fare il nostro se esiste un karma per quello che è successo ci deve tornare ci deve tornare questa salvezza diciamo dai perché adesso siamo diventati squadra da penso da dalla partita dopo il Padova ci siamo inquadrati e ora affrontarci è molto difficile soprattutto a livello di compattezza penso che abbiamo perso una partita nelle ultime 15 quindi è un dato molto importante e abbiamo ancora la fortuna di avere un'occasione per riuscirci a salvare a livello matematico abbiamo la possibilità anche di leggere ogni tanto i dati perché è una nota curiosa adesso a fine stagione possiamo anche dirlo prima di andare in onda prima di cominciare a registrare c'è chi analizza su quello che lo schermo alle nostre spalle tutte le situazioni che create legge i vostri dati in maniera estremamente competente e prepara a disporvi per affrontare la gara prossima nella migliore possibile delle ipotesi tra le tante cose che ci si chiede dietro le telecamere sono come vanno i ragazzi come sono i dati devo dire che ce ne sono un sacco che se fosse possibile renderli pubblici dei sì eh sarebbero difficili da credere leggendo la classifica cioè sarebbe incredibile ragazzi leggere i pochi punti in classifica a fronte della gran mole di gioco che si crea e del grande rispetto che devo dire aggiungo proprio di mio ogni squadra oramai ha nel affrontarvi e credo vi rendete conto anche entrando in campo di questa cosa. Sì ma penso non ci sia bisogno di andare a vedere i dati se uno guarda le nostre partite penso che rispetto anche il giro è d'andata stiamo creando più occasioni c'è un gioco più fluido quindi a rispetto di quel e ce lo dicono anche gli avversari magari dopo che riescono a pareggiarci o che quanto sia difficile affrontarci quindi fa piacere sì però poi bisogna portare a casa. Un centrocampo che spesso ti carichi sulle spalle insieme ai tuoi compagni che ha garantito una solidità con un trend continuamente in crescita. Una difesa che ha dimostrato solidità dal momento in cui ha trovato il suo assetto definitivo, ha guadagnato centimetri, dà fiducia a chi sta tra i pali e trasmette fiducia anche ai compagni di squadra nel momento in cui si passa alla fase difensiva e poi bisogna cambiare fase di gioco. Vedo che c'è grande fiducia ad andarsi a cercare una posizione in campo quasi certi del fatto che il pallone prima o poi ti arriva e a questo punto direi anche le punte sbloccate supportate da un centrocampo che ha dimostrato, leggi Oliver Urso per esempio, tanto per fare un nome nelle ultime partite di essersi trasformato in un bomber assolutamente credibile, mi sembra che sia arrivato a sei gol se non sbaglio nel suo bottino, sono cinque, sono sei gol, però un bottino importante. Quindi una squadra che non manca più in nessun punto, anche il tanto atteso gol di Ongaro finalmente è arrivato con capabilità, con grande determinazione, con quelle che secondo me sono le sue caratteristiche migliori, cioè una grande capacità di tenere palla, una capacità di portarla avanti in maniera ossessiva, aiutato anche da un rimbalzo favorevole per quanto riguarda l'azione che l'ha portato al gol, ma credendoci fino all'ultimo centimetro in diagonale andando a prendere la porta. Quindi benvenuto al gol anche Iston Ongaro, l'ha fatto nel momento importante, mi sembra che la squadra insomma sia equilibrata come state dicendo voi ragazzi anche. Certo sì, abbiamo trovato gli equilibri giusti e ora c'è da dimostrarlo ancora per questa partita e poi si vedrà quello che dirà il campo. Io posso dire che ho visto Edo fuori convocazione in una partita e volevo quasi chiedergli se aveva il GPS che teneva il conteggio dei chilometri perché l'ho visto in tribuna ed era la partita contro Legnago quindi finita 2-0 per chi se ne fosse dimenticato a nostro favore, l'ha vissuta talmente tanto che secondo me ha fatto un paio di sedute di allenamento perché è chilometri che hai percorso per cercare di scaricare la tensione emotiva in quel momento era importante. Segno di una grande partecipazione di tutti, c'è stata la presenza in quella stessa partita anche di Corti in panchina che pur sapendo non avrebbe potuto essere impiegato in campo, ha chiesto di poter scendere per stare vicino alla squadra. Sono tanti piccoli fatti che fanno di questo Novara, al di là di ogni cosa, una bellissima favola e in una favola l'unica cosa che va storta, il grande nemico, il piccolo Puffo, chiamolo come vuoi è questa mancanza di punti che non tornano in quello che è il computo finale. La partita contro Trieste, giusto un commento rapido per analizzare una gara importante percepita dai padroni di casa innanzitutto che inauguravano il nuovo stadio e hanno caricato l'ambiente in maniera non indifferente, anche per me che l'ho vista da casa la cosa era ben presente. 52 cuori azzurri che erano forse numericamente pochi ma era un cuore grande così, che si sentiva battere in ogni angolo, c'erano momenti dove si sentivano molto bene anche i loro cori, devo dire, tra le altre cose. E quindi non manca davvero niente. Come hai vissuto questa partita di Trieste? Innanzitutto è sempre bello giocare in uno stadio così bello, con una bella cornice in pubblico come c'era lì allo stadio della Triestina e ho visto una squadra loro molto più organizzata e meglio rispetto all'andata. Noi abbiamo ballato forse un po' in certe circostanze ma ci poteva stare perché anche loro erano molto carichi per questa prima partita nel loro stadio. Poi però abbiamo tenuto bene, abbiamo regito bene, sono stati bravi a sfruttare gli spazi che si creavano, sono contento per Onga che si è sbloccato, che l'ha cercato con insistenza da qualche partita a questa parte il gol, sono contento che si sia sbloccato. Sono contento anche per la cinquantina di tifosi che sono venuti a seguirci nonostante le ore di trasferte lunghe e nonostante il gol preso alla fine della partita, quando siamo andati da sotto ci hanno anche incoraggiato abbastanza per questa partita di domenica. E tu invece come l'hai vista, Edo, la partita di Trieste? Sì, ero anch'io a Trieste. Questa partita all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, anche se non abbiamo subito il tiro in porta, abbiamo subito l'andamento della gara, il fatto che c'erano i tifosi, il stadio nuovo, così, e ci può stare l'entusiasmo della scuola di casa. Poi, secondo me, siamo usciti molto bene, abbiamo fatto le uscite in fase di non possesso molto bene e abbiamo fatto gol su una bella occasione, in contropiede, e poi abbiamo subito questo gol, in questo momento magari non ci gira su deviazione, è andato nell'angolino, e poi secondo me escono tempo, la gara è stata in equilibrio, diciamo, e poi sono qua a parlare di un 2-2, ci amarei già tanto, però ormai secondo me non bisogna più pensare alla gara di sabato, ma pensare alla gara che viene ora. E infatti tutto questo ce lo mettiamo alle spalle e lo facciamo a questo punto, andando anche a raccogliere quello che è stato il pensiero del mister che ha proposto la sua analisi a caldo appena terminata la partita e credo che se già è difficile commentare le partite con un azzeramento del coinvolgimento emotivo al fischio finale dell'arbitro, lo diventa ancora di più nel momento in cui quel fischio finale dell'arbitro arriva a una manciata di secondi da quando hai subito un gol che in qualche maniera ha compromesso quel bellissimo sogno che fino a qualche secondo prima era acceso di tinte diverse, ma sempre azzurre. È svanito un po' tutto quello che all'interno della gara, quasi fino alla fine, tutti pensavamo di poterla portare a casa, soffrendo il giusto, concedendo anche il secondo tempo, abbiamo concesso quasi nulla alla tristina, a venire qua a fare una partita del genere, una partita di valore assoluto, ma non è bastato perché poi abbiamo preso il 2 a 2 e quindi adesso siamo qua purtroppo alle carcele ferite. Ma va imputato che ci sono anche gli avversari, ci siamo anche noi che sicuramente qualche colpa ce l'abbiamo, ma poi ci sono anche gli avversari. È chiaro che anche oggi cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo concesso mezza occasione e ci hanno fatto gol. Parlo chiaramente del 2 a 2, però ripeto, venire qua e fare la partita del genere dove comunque, ripeto, fino a due minuti alla fine, un minuto alla fine eravamo 2 a 1, cosa posso dire alla mia squadra? Credo poco. Invece bisogna essere comunque contenti per la prestazione che ha fatto la squadra, per come hanno lottato i ragazzi, per quello che hanno dato e credo che questi sono valori che comunque ti portano alla lunga a essere comunque vincenti e sono convinto. E questo è il mood con cui si è affrontato il viaggio di ritorno, un lungo viaggio in cui sul pullman c'è sempre tempo di raccontarsela, riflettere sulla partita, magari ricordare qualche momento più leggero e chiudersi magari anche per alcuni tratti del viaggio un po' in se stessi, a riflettere su quello che è successo. Com'è stato il viaggio di ritorno? Io l'ho fatto con i miei amici. Sì, però il mood era quello dell'incazzatura nel viaggio, perché per forza ti sei questo. Io l'ho fatto in pullman con i miei compagni, con lo staff e tutto e c'era tanto rammarico, perché sappiamo quello che sarebbe potuto essere e mancava sempre poco come tante partite, come è successo per tante partite. Devo dire, per un po' di ore c'è stato silenzio, tanto. Poi abbiamo iniziato a parlare tra di noi, abbiamo iniziato a parlare anche della partita, di cosa si poteva fare meglio, cosa non è girato, qualche sfogo. E quindi poi è stato lungo, perché siamo arrivati alle 3 di notte a casa. Immagino, immagino, i chilometri sono quelli, la geografia non ti dice mai delle bugie, che è un po' come la classifica del campionato, alla fine la guardi e devi attenerti ai numeri che hai davanti. Vi chiedo questo perché abbiamo un po' tutti l'impressione che, come finisca la partita, voi avete questa capacità fantastica che vi dovrebbero invidiare un po' tutti di entrare già subito in direzione di quella che sarà la prossima partita, il prossimo impegno. È un vostro modo di creare spogliatoio, Edo? No, penso che il calciatore ha questa indole, diciamo. Se vuoi farlo a certi livelli devi saper mettere da parte se sono delle vittorie, se sono delle sconfitte e pensare alla partita dopo, perché da un momento che può essere forte e ad un altro momento può essere scarso. È solo nell'equilibrio che si ha dentro se stessi che si diventa forte. Io veramente trovo che in Edo ci siano queste due componenti di un forte momento di freddezza, di lucidità, quasi esci fuori da te stesso per guardare le cose. E dall'altra parte anche invece quella sana quota di follia che in determinati momenti ti contraddistingue quando per estro riesci a esprimerti magari con delle frasi corti ma pungenti che scuotono un pochettino tutto l'ambiente. Un giocatore veramente fantastico per la sua personalità. Quella di Roberto la conosciamo altrettanto bene. Due giocatori veramente importanti che a questo punto hanno come noi tutti l'attenzione incentrata su quella che sarà la gara contro Fiorenzuola. Comincio da te Edo, che cosa ti aspetti da questa partita il cui risultato deve essere orientato in un'unica direzione per quella che l'ha attesa? È una gara fondamentale per tutte e due le squadre. Sappiamo che il Fiorenzuola nel giro di ritorno ha fatto un bel campionato però sappiamo che anche noi abbiamo fatto un bellissimo percorso che deve essere finito in un certo modo e quindi sappiamo delle nostre qualità giochiamo in casa, ci sarà il pubblico che spingerà e quindi noi abbiamo in testa quell'obiettivo lì. Ti chiedo del tecnico per la difesa? C'è qualche defezione? Qualche reinserimento? Tutto secondo copione? Cosa aspetti? No, non si può dire. Che il mister scelga? Top secret. Teniamola così, non aspettiamo altro del resto come tifosi che ci sia il fischio d'inizio quella è la cosa che veramente conta. Roby per il centrocampo immagino che sarà la stessa tua predisposizione a non darci indicazioni per non offrire spunti di vantaggio a chi ci dovrà affrontare. Allora seguo questa linea di... E tutti la condividiamo, però una quasi certezza c'è per un possibile ritorno del tuo compagno di squadra? Non lo sappiamo. Ricky non si sa ancora. Bisogna vedere, ha fatto degli esami, vediamo adesso cosa si può fare. E' ancora in dubbio, per quanto riguarda l'infermeria potrai azzardare una domanda su su. Chiederete al mister in conferenza stampa prima della partita. Tanto il mister è uno che si nasconde. Non si mancherà di prendere queste cose. Per quanto riguarda Kerrigan e il suo stato di condizione? Lui si è allenato oggi con noi, ha ripreso a fare delle cose con noi. Quindi sta facendo delle cose con voi, insomma questo è importante da sapere. Altre sorprese che ci potrebbero essere per recuperi dell'ultimo minuto? Corti è rientrato pienamente, si è visto anche uno spezzone a Trieste e poi Bertoncini anche lui è rientrato a pieno. A proposito di mister avrà un po' di soluzioni su cui orientare le sue scelte. C'è la squalifica di Lorenzini? Sicuramente, questo è il punto che per la difesa la grande curiosità è quella, perché effettivamente va riconosciuto anche se non è nostra abitudine fare analisi dettagliate sui singoli, ma è evidente che Lorenzini ha dato un grande contributo a creare questa solidità difensiva e mi sembra veramente un pezzo importante. Sapere che sconterà un turno di squalifica proprio all'ultima giornata della stagione regolare ci sta, perché comunque abbiamo le alternative e sono lì da vedere, però ti tiene un pochettino in apprensione perché tante volte quando ha la palla sui piedi trasmette proprio a tutto lo stadio una sensazione di sicurezza. Quindi gli auguriamo di rimettersi in frettissima e al tempo stesso gli augurerei di rimettersi per passare una buona estate e fare delle vacanze senza dolori durante i mesi estivi mentre va al mare a rilassarsi un pochettino. Perché non va dimenticato quello che abbiamo detto all'inizio, che la salvezza diretta è possibile e la condizione è quella che, che oltre alla vittoria del Novara sul Fiorenzuola, dai campi dove giocano Prosesto e Bergolettese, arrivino notizie che per loro non riportino né pareggio né vittoria, men che meno, e in quel caso sarebbe una salvezza diretta. Un Novara che è stato più volte battezzato, questo che viviamo, come un Novara 2.0, secondo voi si è fermato al Novara 2.0 o c'è stata una qualche evoluzione che potrebbe, sullo stile della Apple, pensare a un 2.0, 1.2? Cioè in continua evoluzione, un Novara continuo divenire. Secondo me dopo Padova siamo sempre stati abbastanza costanti e quindi… Però con un processo di crescita, non è un Novara che si è assestato su un livello… Sì, siamo cresciuti, diciamo un 2.5. Posso farvi una domanda che è la classica domanda scomoda, che in una puntata è lecito farne una scomoda. Mi sono personalmente fatto un'idea, poi condivisa nei discorsi di bar o di pizzata con gli amici, che magari sul subito fanno un po' fatica ad accettare, ma poi in fondo la condividono. Ovvero che sia un Novara che deve sempre stare con il piede sull'acceleratore in maniera importante, deve tenere alti i giri e forse c'è anche un tentativo di risposta agli ultimi minuti un po' balordi di alcune situazioni. Come molli un attimino, dico che se vai a 100 all'ora non devi mollare di tanto, scendi a 98 e in quei pochi minuti in cui non hai la benzina per andare a 100 e scendi a 98 succede qualche cosa, perché si perdono degli equilibri, si perdono dei pezzettini e si va in sofferenza. E forse questo potrebbe spiegare il perché di questi ultimi minuti il più delle volte veramente sofferti. Insomma, che ci voglia un'attenuta proprio per i 95 o 100 minuti con un'intensità veramente importante. Dico cose sbagliate. No, ma giusto, perché noi non giochiamo un calcio speculativo, ma giochiamo un calcio dove cerchiamo sempre di attaccare e mai di aspettare. E quindi è normale che arrivano in certi momenti della partita che hai il colo un po' tirato. Quindi dobbiamo essere ancora più bravi nel momento di calo, di forze, di essere ancora di più a livello mentale. Quindi di gestione in questo caso. Di gestione. Tu Roby come la vedi? Sì, sono d'accordo. Penso anch'io che siamo una squadra che non si può permettere cali e penso che sia visto, perché appunto appena cali un po' l'intensità negli ultimi minuti è successo che spesso abbiamo preso gole. Sicuramente però è anche difficile tenere per 90-95 minuti quella intensità, perché l'intensità è sempre parecchio alta e anche mentale. Certo, certo. Non scordiamoci che avevamo cinque punti a dicembre. Non se lo scorda nessuno questo. Non se lo scorda nessuno. Siamo sempre lì da quel punto. C'è stato un clac che ci ha permesso di poter arrivare l'ultima giornata e poterci giocare a salvezza. È scattata questa molla e adesso quindi ci sono tutti i presupposti per vivere questi ultimi 90 minuti più recupero. Non lasciamo niente al caso con quella che è diventata oramai una mentalità novara, una mentalità aperta, una mentalità che ha beneficio anche di chi occasionalmente volesse vedere una partita di calcio. Garantisco al 300% ti diverti perché è un bel vedere il calcio, un bel vedere maglie azzurre soprattutto che pressano in tutte le zone del campo, che impostano, che ragionano, che portano palla con condizione di causa a mirare l'obiettivo finale di segnare. Infatti non a caso contro la Triestina non siamo andati in rincorsa ma siamo stati rincorsi per ben due occasioni perché anche questo è un dato che non deve passare inosservato. Credo che adesso tutta la vostra attenzione sia rivolta esclusivamente a questa partita sapendo che poi potrebbero succederne altre due. Un'andata e un ritorno che con, qualora fosse, se dovesse succedere, il miglior piazzamento in classifica permetterebbe di vincere e rimanere in categoria facendo retrocedere gli avversari che sarebbero di nuovo quelli del Fiorenzuola anche con il risultato di pareggio perché il regolamento dice che chi si piazza meglio in classifica regolare beneficia del fatto che a parità di gol diventa la squadra vincente che rimane appunto in categoria. Ogni soluzione è possibile, noi ne tifiamo, ne speriamo e ne inseguiamo soltanto una. Ragazzi voi sarete le nostre gambe, sarete quelli chiamati a dare forma al nostro grande sogno, al nostro enorme e infinito desiderio di mantenere questa categoria perché possa esserci un grande futuro per il nostro calcio e per le maglie azzurre. Approfitto di questo per passarlo come augurio ai nostri due grandissimi ospiti, Edoardo Lancini, grazie a te Edoardo, e il nostro capitano Roberto Ranieri. Grazie mille a tutti, grazie a te. Canale 814 di Sky in prima battuta e poi sulla piattaforma MS Plus per recuperare la puntata sempre quando volete, ovunque voi vi troviate. Grazie ancora per esserci stati, ma grazie ancora di più perché ci saremo e ci sarete anche in quest'ultima sfida della stagione regolare, fischio d'inizio 16.30, qui Stadio Piola per la gara tra Novara e Fiorenzuola. da Corea Azzurri ci vediamo qui, ciao!